L'annuale rapporto sulla povertà e le risorse nella diocesi di Lucca dal titolo Svegliare l'Aurora mette nero su bianco il disagio sperimentato da parti significative della popolazione durante il 2020, anno dello scoppio della pandemia. Dai dati presentati dall'arcivescovo Paolo Giulietti e dalla direttrice della Caritas diocesana Donatella Turri emerge la sensibile crescita del numero delle persone che si sono rivolte ai centri di ascolto della Caritas. Sono state oltre 2.000, il 7% in più rispetto al 2019. Ma soprattutto, ed è questo il dato interessante, è aumentato il numero di coloro che ai centri Caritas hanno portato non solo la propria richiesta individuale di aiuto ma anche quella dei propri cari. Il 49% delle persone incontrate vive infatti in un contesto familiare. Tra i problemi rilevati maggiormente da chi si rivolge alla Caritas c'è quello del lavoro. Oltre il 55% delle persone dichiara di essere disoccupata e il 23% riferisce di avere un lavoro da cui ricava una retribuzione insufficiente a soddisfare i bisogni fondamentali del proprio nucleo familiare. Ed è cresciuto il numero delle persone che si sono rivolte per la prima volta nella loro vita ai centri Caritas. Sono state 583, oltre il 30% del totale. È questo il dato che mostra in maniera diretta l'impatto della crisi economica e sociale causata dalla pandemia. Innanzitutto diciamo che è un rapporto particolare, perché non è solamente un rapporto quantitativo. In questi giorni anche l'Istat ha tirato fuori le statistiche sulla crescita della povertà assoluta, sulle fasce più coinvolte, ma anche un rapporto che nasce dall'ascolto, cioè dall'incontro con le persone, per cui accanto agli elementi quantitativi c'è la comprensione di una situazione, alle volte di un contesto in cui le situazioni di povertà si manifestano. Quindi è molto prezioso, perché ci fa capire le tendenze che stanno accadendo. E in questo momento particolare si evidenzia che la pandemia ha sottolineato, aggravato tutta una serie di situazioni critiche a livello sociale, aumentando le diseguaglianze, andando a colpire alcune fasce particolarmente fragili. Allora è chiaro che questo rapporto dice che se vogliamo ripartire, alcune cose strutturalmente devono cambiare per quello che riguarda l'attenzione alle fasce più fragili del nostro territorio.